Heyo, what's good everyone? Benvenuti nel mio canale, questo è Mauro che vi parla e oggi vi porto una nuova reaction alla Tritolo Pazzo E abbiamo Frank contro Palo, i quarti di finale del primo turno, quindi abbiamo finito gli ottavi, abbiamo fatto anche il giro di presentazione E qui ragazzi non si scherza più, non si scherza più, qui iniziano le battle serie, che poi, diciamo la verità, hanno spaccato proprio tutti Hanno spaccato proprio tutti, teste di serie, teste di non serie, tutti hanno spaccato, tutti hanno spaccato, ben pochi hanno deluso, quasi nessuno Comunque, senza perdere troppo tempo, andiamo a vederci anche questa battle Un minuto classic sul boom bap, un minuto new school, un minuto new school, ok? Ok, ci siamo, sei pronto, inizio il boom bap, 3, 2, 1, go! Lean back, lean back E porta il flow che suona lento, perché con il flow c'ho l'abbonamento, senti tu dimmi, sei schettino che viene a Nola, perché cerca l'isola dei gigli Allora dimmi quando flow, do la carica, mi batti quando lui dà la patente nautica, avanzo con il flow e dopo sai vado alla meta Sono Goku perché c'ho l'onda energetica da un altro pianeta Questo flow, sono il dopo, Franky quando arriva sai che ti porta allo show Vado avanti con la rima bella, ed è spessa Io becco palo, ma lui becca la traversa Oh! 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 Vabbè, vabbè, quel video lì è storico, l'avevo già capito, eh, vabbè Tre traversa hai già capito che parla di Ronaldinho, che è l'antico 3, 2, 1, go! Hà! Resto perplessa! E per noi dopo un minuto, amo, ma mi fuccia, non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa, non? Una compressa Morzilla Amma mia è proprio un peccato che non riesco a capire perché c'è un flow pazzesco, un'energia assurda Paolo, cioè riuscissi a capire tutte le sue live secondo me sarebbe uno dei miei preferiti Ok, siamo pronti, ci siamo, 3, su un beat New School, sempre lo venuto a testa, 3, 2, 1, go Senti che Franky riparte, ti porta lo stile di fisso capisci che dopo mi gioco le carte, sopra il beat lo sai che sono un killer, si è tatuato questo perché il suo stipendio è l'otto per mille, dimmi allora come pica solo questa roba perché Franky quando rappa lo capisci che sta sul quarto e la chiude, shaker o fa la roba Ah, fa culo No, vabbè, vabbè, no, 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 non dico fa culo perché se non l'avesse mai fatto quella non sarebbe mai venuto la Juve quindi è stato un bene che l'ha fatta, dai Perché rifaccio lo stile capisci che dopo fratello ti porto il freestyle nel senso che porto le rime fratello non vincico già lo sai, tutti vogliono frincone perché fa l'extra beat meglio di basta rhyme Oh, double time Oh, mamma mia Oh, mamma mia Oh, mamma mia E chi ste scarse difensore e le grottaglie Sì Paolo è chiaro Paolo è chiaro Oh mio Dio no 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 a me non ci credo quando tirano fuori cose del genere Ma forse intendeva sex tape Non le mixtape aspetta Non lo so Non lo so Oh mio che flow Go Oh mio mio Questo è duro sta battaglia C'è l'N1 C'è Fran con le barre C'è Paolo con il fluo pazzesco Questa bella tosta Quindi un minuto quattro quarti Inizia Paolo Eh sì È iniziato quattro quarti E così mi dispiace I'm sorry Ci sei? Un minuto quattro quarti 3 3 2 1 Go Non è vero Un minuto quattro quarti Non sai che contro Franky poi ti si abbassa l'adrenalina Ti manderò in cucina Tu non sei Achille, sei Ettore Perché il mio flow sul palco ti trascina 1, 2, 3 Primo round Pietro Paolo, dopo un'azze che non ho found Non mi interessa chi sia bene background Freda, ma si le metti a trodo un discount Ma quale discount? Non sai che sei un coglione Adesso io ti vado stando in improvvisazione Non sai perché non sei un campione Perché il tuo flow vale solo da Napoli arrivando a Mondragone Mamma mia Eh sì, eh sì, eh sì Sarei in dubbio, eh Sarei stato in dubbio io Però Eh non lo so, non lo so il loro criterio di giudizio quale sia Però visto che Secondo me ha meritato palo per il semplice motivo Che hanno messo tre Hanno messo tre tipi di beat Uno new school Uno boom bap E uno school E secondo me il flow di palo è stato eccezionale in tutti In tutti i tipi di beat Invece Frank ha continuato a sputare barre su barre Che comunque spaccano sempre Però Non so, eh Se il criterio era il flow Visto che cambiano i beat Palo ha meritato assolutamente Se invece erano le barre Cioè Io dico Frank perché palo purtroppo non capisco tutto quello che dice Però Secondo me è meritato, eh Secondo me è meritato Poi non lo so, eh Non venite a attaccarmi se Se la pensate diversamente Fatemi sapere comunque nei commenti Io li leggo tutti E cerco di capire quando sbaglio Quando sbaglio qualche giudizio o qualcosa Comunque Abbiamo finito anche questa Ragazzi È una figata come stanno facendo questi quarti Quindi non vedo l'ora di reagire già al secondo turno Che figata assurda Stato il turno battle Sarà una delle migliori Ce la lo so Comunque spero che vi sia piaciuto il video Ragazzi Mettete un like Condividetelo E non dimenticatevi di iscrivervi al canale Attivando le notifiche E ci vediamo alla prossima Bella Ciao